25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È importante oggi sensibilizzare le donne, soprattutto a ribellarsi, soprattutto ad evitare anche le violenze psicologiche. Con noi l'assessore Marina Castiglione, assessore alla cultura, docente universitaria, che comunque ha sempre avuto quindi un grande contatto con i ragazzi, con le nuove generazioni. Cosa si sente di dire oggi, soprattutto alle ragazze? I fatti di cronaca ci dicono che da un lato la società è profondamente cambiata. L'emancipazione femminile ha fatto il suo corso e ha portato le donne a assumere ruoli, vesti, competenze che sono identiche a quelle degli uomini. E contemporaneamente gli stessi fatti di cronaca però ci dicono che continua a esserci una violenza esercitata sul cosiddetto genere debole, che è quello femminile, che spesso viene esercitata proprio all'interno delle mura domestiche. Questa violenza continua a riportare tutta quanta la società indietro, indietro verso società che appunto ritenevano che la donna fosse un oggetto da possedere, su cui comandare, su cui esercitare alla fine anche la propria frustrazione. Perché tante volte io, come tutti noi, ascoltiamo in orriditi quello che accade, assassini, sfreggi, violenze di tutti i tipi, anche psicologiche, non necessariamente fisiche, ma che non sono meno dolorose e che alla fine coinvolgono tutto il tessuto familiare, non coinvolgono soltanto la donna, coinvolgono anche i bambini che stanno spesso dentro quelle mura domestiche. E questo spesso ci fa vedere come non sia l'uomo il sesso forte, perché l'esercizio della violenza è in realtà esercizio di una propria debolezza, di una propria incapacità a relazionarsi in maniera dialettica e civile con la persona che si ritiene di poter dominare. Ma il dominio con la violenza, ce lo dicono tanti i fatti di cronaca, non necessariamente questi che si riversano sulle donne, spesso nascono proprio da frustrazioni, da sensi di impotenza che si scatenano nella maniera più animalesca. E quello che ancora oggi sorprende però è che tante donne continuino a vivere nel silenzio e nella vergogna queste violenze e che spesso abbiano il timore di confessarlo anche più intimi, anche ai genitori, anche alle amiche. E proprio in questo silenzio si nutre ancora di più la presunta forza, ma proprio lo scatenamento invece poi della violenza di questi uomini che ritengono di poter vivere soltanto se la donna che hanno scelto, magari in un momento in cui non c'era ancora questo rapporto così conflittuale, gli dà un senso, perché poi vuol dire che senza quella donna loro sentono di non avere più un senso. Io oggi che è la giornata internazionale mi sento di dire che non può esistere questa cappa di silenzio, questo senso della vergogna, perché non è chi subisce la violenza che deve vergognarsi, ma piuttosto chi l'esercita. E dunque spesso molte vittime potrebbero essere salvate, aiutate, accompagnate, se uscissero dal silenzio.